Trasporti pubblici strapieni spingono il contagio. Sacrificare gli studenti delle superiori era il rimedio più semplice. Costretti quasi subito alla didattica a distanza, malgrado tutti gli scrupoli sanitari della scuola, potrebbero tornare in aula nelle prossime settimane. Le imprese private lo ripetono da mesi. I loro mezzi, centinaia fra pullman, taxi, noleggi con conducente, inchiodati dalla crisi del turismo, contribuirebbero da subito a ridurre l'affollamento bis. Le categorie hanno appena rinnovato la disponibilità all'assessore regionale Elisa De Berti. Superati gli scogli formali, resta quello del costo. Le regioni hanno competenza sui trasporti territoriali, tra le prime forme di autonomia riconosciute, e il governo le rimprovera di non aver usato pienamente la somma disponibile, almeno 300 milioni, per le corse aggiuntive. Prattanto li stiamo in parte anticipando noi, scrivono Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Friuli. Certe linee pubbliche poi soffrono un calo generale di biglietti e trattengono fondi. Il problema è che sono stati al momento assegnati a grandi player del trasporto pubblico locale e noi abbiamo bisogno che vengano poi trasferiti operativamente alle imprese private. Noi stiamo parlando di 700 autobus che in questo momento sono fermi. Meno 90% a livello Veneto, Marco Polo meno 80%, Porto Crociere meno 100%, Treviso e Verona aeroporti chiusi, il turismo meno 60%. Questo è un territorio che vive di turismo internazionale, che non tornerà a breve. La crisi ricade sull'indotto. Noi sistemiamo e ripariamo impianti aria condizionata e climatizzazione sugli autobus. Quanto è calato il lavoro? Ma del circa dell'80%. Grazie a tutti.